Questa è Nancy e ama fare la stilista. Qualcuno che sia praticamente un grande esperto di eleganza. Ecco le cinque cose su Nancy. Uno. Fucsia è il colore preferito di Nancy. Oh là là! Non è il colore più fancy che esista. Oh là! Due. Nancy adora le farfalle. Ti voglio chiamare Papillon. Che significa farfalla? Wow! Sono praticamente un'esperta di farfalle. Tre. Nancy ha i cani più adorabili al mondo. Frenzy. Si chiama così perché Nancy ama la lingua francese. Quattro. Nancy usa un servizio postale speciale per inviare segretamente messaggi alla sua migliore amica Brie. E vorrei allestirlo in giardino. È meraviglioso, Nancy! È delizioso. Nessuno riesce a organizzarlo meglio di te, Nancy. Cinque. Il suo castello di giochi è... Elegante. E il suo posto preferito dove poter fare bellissime peste. Voi sarete sempre i benvenuti. Sì e sì va! E queste erano le cinque cose su Nancy. Amo l'eleganza. Mette l'allegria. È una mia attitudine. Che mostro ovunque io sia. Oh la la. La la. Non perdere pensi Nancy Clancy. Solo su Disney Junior. Clicca sullo schermo per vedere altri video. E vai su Disney Junior per seguire i tuoi programmi preferiti.